Ciao a tutti, mi chiamo Cinzia, ho 56 anni e nel 2003 mi è stata diagnosticata la sclerosi multipla. Io voglio ringraziare in particolare mio marito e la dottoressa che mi cura, perché sono le persone che in tutti questi anni mi sono state vicino e poi voglio ringraziare anche me stessa perché ho avuto la forza e l'amore per la vita per andare avanti. Dico a tutti di non arrendersi mai, la vita è una cosa meravigliosa e anche con la sclerosi multipla si possono fare tante tante belle cose. Grazie